Sono Daniela e sono un funzionario pubblico. Lavoro in un ente della regione Puglia, un'agenzia regionale che si occupa di difesa del suolo. Io sono una persona fortunata e sono fortunata anche grazie alla CGL che ha permesso che la mia storia sia una storia con un lieto fine. Ero una precaria, oggi sono una lavoratrice dipendente con un contratto e con le sue tutele, perché avere tutele non significa essere una persona privilegiata e sono semplicemente una lavoratrice e come me ci sono centinaia, migliaia di persone che quotidianamente, purtroppo meno fortunate di me, che lavorano con impegno e professionalità nella pubblica amministrazione, operando nel bene e nell'interesse di tutti. Mi riferisco a settori strategici come scuola, sanità, sicurezza, ambiente. La stabilità non è un privilegio, deve essere il leitmotiv di ogni paese sano. Io ci sono e tu? Io ci sono e tu? Io ci sono e tu? Io ci sono e tu?